Io sono un geomatico, essenzialmente lavoro con i dati cartografici da circa 20 anni, poi è un mestiere in cui impari a fare cose, chi fa il tecnologo è difficile oggi che faccia una sola cosa. Ma diciamo, alla domanda che fai, questo è il mio mestiere in qualche modo di provenienza, dati cartografici che sono un po' il cuore in tutti i libri sui dati aperti, in tutti i report sui dati aperti, ancora oggi trovate quasi sempre il riferimento a questo tipo di dati. E anche il CV Caker, nella sua indagine su un certo fenomeno, è quasi sempre costretto a partire da dei dati di natura cartografica. L'evidenza di questo sia anche nel vostro portale Sardo, in cui credo su circa 800 dataset, quasi 600 vengono dal portale cartografico. Perché qualsiasi cosa si fa in qualche modo è contestualizzabile in un luogo fisico ed è lì che viene la forza dei dati cartografici o spaziali. Oggi sono non nella veste di Geomatico, ma in questa veste da Civic Caker, che è un neologismo interessante, stimolante. L'hacker visto non come il pirata, perché in realtà quella non è la definizione corretta di hacker. L'hacker è qualcuno che fa utilizzo creativo di risorse, di competenze, di tecnologia, per arrivare a un risultato che prima non c'era. L'hacker civico in particolare è qualcuno che mira risultati che possono essere utili per la società, per il territorio attorno a sé. Nel piccolo è quando si ci riesce, è più difficile, nel grande. Ma detta così potrebbe sembrare che ci sentiamo gli Avengers, in realtà non è nulla di tutto questo. Anzi a me per certi versi dà fastidio il fare coincidere questo ruolo del Civic Hacker con qualcuno che vuole fare il supereroe, il buono. Molto spesso è una persona che è un professionista, molto spesso è un utente esperto. Io dico che il Civic Hacker in realtà è uno che vuole, ha interesse a fare le cose per bene. Vi faccio un esempio, un piccolo, ne vedremo altri più addentro. Il mio comune, quello di Palermo, ha pubblicato, come fanno le pubbliche amministrazioni, un documento sulle performance dei dirigenti. Era pubblicato a norma di legge, quindi era un PDF, era purtroppo la scansione di pagine e quindi se avessi voluto fare un trova, un cercatesto, quindi volevo vedere le performance rispetto a un certo argomento, rispetto a un certo dirigente, perché sono interessato a un tema in particolare, il documento era molto ricco, se non sbaglio diverse centinaia di pagine, e stavo diventando matto. E allora ho fatto l'upload semplicemente di questo documento su una piattaforma molto famosa, molto correlata al tema delle date aperte e soprattutto dei documenti, che si chiama archive.org, che è un po' l'archivio del web, è uno dei siti in cui si va quando spengono un sito. Anche dati.gov.it, il portale americano, ha avuto un attimo quest'anno con il cambio di presidente qualche piccola problematica, ma c'era la copia di quei dati e di quel portale su archive. Io ho caricato questo pdf che era semplicemente una scansione su archive, archive oltre a essere un archivio in cui rimane la storia di un documento, e quindi da poter essere la trasparenza, c'è sempre la possibilità di riprendere quel documento, e questo a chi fa attività civiche è molto importante, perché spesso dai siti, dopo un po' questi documenti formali, e a norma di legge vengono rimossi. Archive fa lo CR, cioè trasforma la scansione in testo ricercabile, lo fa molto bene in questi casi perché il documento è in realtà un documento digitale, quindi il testo è molto ben scritto, molto ben riconoscibile. Ho fatto l'hacker civico a rendere quel testo ricercabile, quindi leggibile un po' meglio, a trasformare un po' quelle pagine in dati, secondo me ha cercato di fare una cosa per bene, ha cercato di fare una cosa utile, e quindi mille definizioni, per me è qualcuno che vuole fare qualcosa per bene. A proposito, qui non voglio fare pubblicità, è un amico, ma è una bellissima iniziativa di due amici, di Matteo Brunati ed Erika Marconato. Loro, un po' come oggi, ma in maniera molto più larga, hanno detto, ok, in Italia, come ha detto anche Sergio prima, il civic hacker forse è tra quelli, tra le figure in qualche modo, che ha stimolato nel bene e nel male, non è una categoria, ripeto, da proteggere, nel bene e nel male, tante iniziative. Allora, loro, e negli anni poi si perdono, perché nel 2012 c'è l'iniziativa di civic hacking sulle barriere architettoniche in città, poi nel 2013 c'è quella sull'emergenza acqua, nel 2014 un'altra ancora, il terremoto, ne parleremo. È un peccato che di queste storie rimanga spesso soltanto un po' una traccia giornalistica, rimanga l'emozione di chi l'ha vissuta, non rimane quasi mai la possibilità di una traccia per poterla anche riusare, a proposito di riuso, anche per colpa nostra, nel senso che il civic hacker poi non lascia sempre una traccia documentata di quello che ha fatto e delle modalità con cui le ha costruite. Loro hanno deciso di raccogliere testimonianze, informazioni, da tanta gente che in Italia negli anni ha fatto questo tipo di operazione, e vogliono raccontare, ve lo dicono, storie di italiani e italiane che collaborano per trovare soluzioni creative a sfide sociali concrete, che è la definizione più larga, forse più giusta, di civic hacker. C'è una newsletter, vi consiglio di scrivervi, perché producendo voi dati, essendo una delle fonti più apprezzate, più importanti, riferimento, cioè se io sono un cittadino di quella regione, della vostra regione, ma in generale se voglio fare un'analisi, una ricerca, un business sui dati che hanno a che fare con la Sardegna, il primo punto d'ingresso sarà il vostro portale. Leggere cosa fa il civic hacker, e quindi abbonarsi a una newsletter di questo tipo, che è molto carina, con dei casi nazionali e internazionali, è molto interessante. Loro poi pubblicheranno un ebook, stanno finendo di raccogliere delle informazioni. Chiusa parentesi, ma era, secondo me, molto carina, molto importante. Vedremo una carrellata rapida, in realtà pochi casi d'uso. Può darsi che mentre racconto me ne verrà fuori qualcuno fuori slide. Ho scritto nel bene e nel male perché non funziona sempre bene, o perché alla fonte c'è qualche problematica, o perché magari il civic hacker in qualche modo fallisce, sbaglia mission, è poco civic ed è solo hacker. Allora, ho diviso, ho pensato, mi sono messo, come dire, ho analizzato me stesso, e mi sono venuto in mente che essenzialmente noi facciamo un riuso di dati in due modalità. Una che io ho chiamato come conseguenza, cioè se chi pubblica dati aperti, quindi non soltanto la pubblica amministrazione, lo fa con qualità, con un occhio al territorio, con un'analisi delle richieste che arrivano o che sentono intorno. Se ciò che pubblica è ben descritto, è aggiornato, è grezzo, non è aggregato, sapete benissimo di che parlo, perché tra di voi credo che ci siano anche numerosi esperti, quindi non mi metto a fare lezioni a gente più brava di me. Quando tutto è fatto per bene, il riuso è essenzialmente una conseguenza. E siccome nel mondo di civic hacker, di chi vuole fare le cose per bene, alle volte è come se avessero un sensore, qualcosa che si accende, e automaticamente quindi la regione pubblica classico, i numeri civici di un certo comune, che è un classico dato sempre molto richiesto, si fa squadra, si va a bussare alla comunità OpenStreetMap, si analizza il dato e si cominciano le ore di elaborazione su questi dati, il report, si fa la domanda alla pubblica amministrazione su quello che non torna, e tutto questo è molto facilitato dal punto di partenza positivo. Una mini parentesi, alle volte altra cosa che non mi piace troppo la definizione del civic hacker è che sia come dire uno che fa una robetta in un'ora la notte e poi esce la mappetta a pallini. Ovviamente facciamo anche questo. Però, e lo vedremo nei casi un po' più rognosi che descrivo nella seconda parte, in realtà quando si fa il civic hacking di qualità è esattamente un... ci vuole mestiere, quindi ci vuole tempo, ci vuole conoscenza, sono ore, giorni, settimane di lavoro a tutti gli effetti. Quindi non è, come dire, un qualcosa che si fa per fare il... da hippie, non so come dire, non è una roba che uno fa in maniera soltanto volontaristica quando c'è tempo. Delle volte è proprio un'attività che uno si incastra nelle proprie giornate, e delle volte è anche un... ha a che fare con pezzi di professione. Riuso come conseguenza. Allora, in questa slide che vedete è un file XML e ha a che fare con il comune di Palermo, come si vede dall'urlo in alto, mobilitasostenibilecomune.palermo.it e su questi dati i riusi sono stati tantissimi. Il comune di Palermo pubblica da tempo un feed RSS, quindi, per chi non sapesse cosa fosse, semplicemente un file XML strutturato con descrizione, titolo, eventualmente categorie di cose che avvengono, in questo caso è legata alla mobilità, quindi di grandissimo interesse, perché ci sono gli incidenti stradali, le interruzioni, a volte le allerte. Cosa faceva? Lo pubblicava come feed RSS, il feed RSS, lo dirò dopo, si presta tanto al riuso, perché è uno standard da virgoletto vecchio, e quindi, come dire, molto conosciuto, qualsiasi sviluppatore software, ma anche qualsiasi utente, direi anche mia mamma, per certi versi, però un esempio dopo, sa come riutilizzarlo per fare qualcosa. Cosa mancava in questo feed RSS, visto che ha a che fare col territorio, perché un incidente avviene in un punto della città, e sapere dove è quell'incidente, dove è il traffico chiuso, dove si è aperta una voragine, purtroppo avvengono anche queste robe, è fondamentale, perché si possono creare servizi che, su mappa, visualizzano le aree da cui non passare, le deviazioni. Mancavano una coppia di coordinate. Il dialogo che questo ufficio del comune ha sempre avuto con la cittadinanza in generale, ha consentito di arricchire questo dato, e quindi sono state inserite, dopo poche settimane dal lancio, e pochi giorni dopo una richiesta, secondo standard, le coppie di coordinate, e hanno trasformato il Feed RSS in uno standard geografico, che è il Geo RSS. Anche i portali cartografici hanno la possibilità di esporre le proprie informazioni secondo Feed RSS. Quindi loro pubblicano queste informazioni, e nel giro di pochi giorni avvengono cose. Perché è un classico dato di grande interesse da parte di chiunque. Perché le zone calde della città interessano a me che devo andare da casa all'ufficio e cambio strada se ci sono delle problematicità. Ma ovviamente, se io raccolgo un anno di dati, è di mestiere vendocase, è di mestiere affitto negozi, è di mestiere costruisco supermercati, è evidente che un dato di quel tipo, avendo la possibilità di costruire una serie storica, è di grandissimo interesse. Una delle prime cose che esce fuori è un'applicazione web molto carina, si chiama Palermo Incidenti, l'ha fatta Gunther Richter, che è un sviluppatore javascript tedesco, che vive in Italia da anni. E uno, secondo me, sembra anche qui pubblicità, insomma, non ci vediamo mai. Io lo conosco essenzialmente come utente su Twitter. E' uno, secondo me, dei più bravi creatori di dashboard, di infografiche, a partire dal riuso, soprattutto di dati geografici. Adesso non apro il sito. Voi nelle slide ho messo quasi sempre un hyperlink. E' molto interessante perché, a partire da dati non grezzi, poi vi fa un'analisi aggregata in cui è possibile visualizzare le zone nella mia città con certi tipi di problematicità e di incidenza, diciamo, statistica rispetto a ciò che sono gli incidenti stradali. Gunther non solo ha creato l'infografica, ma è anche il creatore del contenitore di questa infografia. telegram, immagino che più o meno tutti lo conosciate, che magari qualche ping, diciamo, nel corso su classiche modalità di divulgazione di dati, che in questi casi si è stato citato telegram. Abbiamo gli incidenti, sono in formato standard, è la polizia municipale stessa che col suo smartphone sul luogo crea il feed. Vi dicevo, è uno standard, è uno standard vecchio. È molto semplice fare in modo di trasformare quella informazione, quel file XML che quello mia mamma non lo capisce. Cioè, magari, se ci butta un occhio si rende conto di che si tratta, però non sa poi come renderlo qualcosa che le suona in tasca, diciamo. Quel feed RSS essendo uno standard è molto semplice trasformarlo in un avviso in broadcasting, quindi, essenzialmente, non una chat, ma da un punto centrale verso chi è iscritto a questo nodo si chiamano canali. Questo non è nemmeno un classico bot, non è un motore di chat con cui parlare, a cui fare domande. Questo è come se fosse un televideo sul telefonino che in broadcasting manda a tutti gli iscritti, 50, 100, 1000, le informazioni e i casi sugli incidenti sono un classico caso di riuso. Qui, Civic Hacker, quando vi dicevo all'inizio il riuso come conseguenza, è troppo facile, lo fa immediatamente e fa immediatamente una cosa che serve, cioè, come dire, il successo è garantito, dati di qualità esposti in formato standard, è un attimo che l'innovatore civico, l'innovatore sociale, lo trasformi in un servizio che possa essere replicato e dare ufficialmente. la domanda è buona questo non è l'account ufficiale del Comune di Palermo, questo è nel logo non si vede, c'è una striscietta nera scritto non ufficiale, loro ufficialmente pubblicano su Twitter, hanno scelto, quindi è una scelta come dire tecnologica, hanno scelto Twitter come mezzo in cui replicare in broadcasting, è probabile che tutto questo finisca in questo anno in un loro canale ufficiale perché notizia di ieri di protezione civile del Comune di Palermo stanno utilizzando, iniziando ad utilizzare il canale ufficiale di protezione civile che loro non pubblicizzavano tanto in maniera molto più forte anche in termini di comunicazione perché gli eventi annuali gli eventi recenti pensiamo al Livorno stanno spingendo la le pubbliche amministrazioni a utilizzare questo strumento è un esempio non c'è solo Telegram ma questa modalità è molto è molto semplice e e pop non è soltanto per te perché mia mamma non sa cosa come leggere quel file XML ma potrebbe tranquillamente con faccio un esempio che secondo me è straordinario ma ci stiamo entrando con strumenti come è famosissimo si chiama IFTT if this con tre t if this then that se avviene questo fai quest'altro è un sistema una piattaforma online che consente di connettere un trigger quindi una miccia un qualcosa che fa partire la la fiamma la scintilla che lo connetta con un qualcosa che poi esplode ovviamente in maniera metaforica quindi abbiamo un trigger la scintilla è una conseguenza per ogni incidente pubblicato nel feed RSS del ufficiale quello ufficiale del comune di Palermo inviamo un email inviamo un messaggio su Telegram invia un messaggio su un gruppo Facebook archivia queste informazioni su uno spreadsheet in Google Drive in modo che poi mi faccio volendo l'analisi dopo un anno dopo dopo sei mesi quello che vi dico non solo è attivo da tempo sia a mano diciamo sia realizzato dai civic hacker che utilizzano questo IFTTT se non lo conoscete andate è straordinario ma iniziano a esserci i primi canali ufficiali su queste piattaforme delle di alcune città l'esempio il primo di questi spazi se cercate sul web IFTTT e Open Data trovate la notizia credo che sia di inizio di quest'anno riuso di Open Data di qualità si prestano a fare cose utili per chi vuole essere informato e allora guardate la cittadina di Louisville cosa fa ha attivato quindi io mi do solo di iscrivere IFTTT è un sito web metto username e password mi sono iscritto a quel punto vado nel canale Louisville sono un fortunato cittadino di Louisville e mi posso attivare ce ne è decine vi ho fatto uno screenshot delle cose per cui ripeto mia mamma faccio semplicemente clic scelgo una ricetta a cui abbonarmi mandami un'email quando c'è un cambiamento della della qualità dell'aria mandami un'email quando c'è una una notifica di emergenza in in città inviami un messaggio su Slack Slack è un'applicazione molto famosa di di chat ricevi una telefonata quando e quindi ricevi una telefonata è straordinario perché chi fa chi pubblica dati chi lavora per gli altri la pubblica amministrazione fa fa questo deve sapere di potersi rivolgere a tutti i tipi di utenti riuscire ad andare da Slack a un SMS a una telefonata quindi riuscire a a coprire tutti i tipi di utenti di tutte le età volendo anche un altro tema di tutte le tasche perché se io riesco a fare una telefonata mannaggia dovrei riuscire anche ad arrivare a chi può permettersi purtroppo soltanto magari un o il telefono di casa o un telefonino da 20 euro è molto importante perché ancora noi e non soltanto noi siamo un paese con delle grosse differenze di di reddito quindi IFTT soltanto come esempio tenete conto che si può approfondire il tema nel senso che IFTT ha messo a disposizione una sorta di di builder per costruire delle piccole ricette semplici che potrebbe quindi si potrebbe creare il canale ufficiale della regione Sardegna si può creare anche senza dirla a nessuno quindi ci cominciate soltanto a lavorare in background e costruire dei piccoli 3-4 servizi a cui invitare la gente anche per capire se ci interesse a iscriversi il riuso per la crescita della consapevolezza queste ricette quelle citate prima al di là dell'esempio al di là dell'esempio sull'emergenza che è di cronaca avviene spesso è recente cosa abbiamo messo in piedi è facile facile io sono uno degli animatori di una comunità regionale open data Sicilia è una comunità che è attiva da qualche anno che sta funzionando abbastanza bene siamo citati in maniera positiva come esempio di riferimento di comunità attenta al mondo dei dati aperti io spero sempre che i giudizi positivi siano meritati e allora siccome sui dati aperti ed è un tema che riguarda anche voi al di là come dire degli obblighi della voglia che abbiamo di pubblicare dati è un tema che non è ancora per tutti non è semplice entusiasmare qualcuno e dirgli guarda ci potresti fare queste cose sei informato puoi fare riuso e allora come comunità visto ci siamo un po' confrontati abbiamo detto ok facciamo delle cose semplici facciamo in modo che ogni volta che c'è un nuovo dataset pubblicato su un portale di quelli che esistono in Sicilia sono pochi da pochissimo abbiamo quello regionale ma in generale come pubblica amministrazioni credo che sono 5-6 comuni di Palermo comuni di Catania provincia di Enna alcuni di questi non aggiornano praticamente mai i dati allora se fai venire la colina in bocca se fai sapere che quelle cose esistono forse qualcosa può avvenire la gente dove sta sta per strada sta molto sui social allora c'erano dei feed rss quello della pubblicazione dei dati farò un mini accenno anche anche si che ne espone il feed rss pubblichiamo un tweet e pubblichiamo su slack pubblichiamo su facebook tutte le volte che uno dei portali nella slide che vedete il comune di Catania che purtroppo pubblica molto poco nonostante sia una grandissima città e anche una grande città tecnologica Catania questo è servito poco ma meglio di prima grazie ad avvisi di questo tipo sono nate anche applicazioni nuove pagine web servizi nuovi perché è arrivata voce a chi si occupa magari di turismo che era stato pubblicato un dataset sulle strutture ricettive di una certa area o regionale qui un attimo un accenno a voi le slide non è molto leggibile cos'è quell'URV che vedete Siken la piattaforma che utilizzate voi e decine di altre pubbliche amministrazioni ovviamente essendo una piattaforma molto attenta agli standard molto attenta al riuso molto attento all'arrivare ai CVK anche ovviamente tra le cose che pubblica c'è il il feed rss quindi questo file xml che ripeto è molto facilmente riutilizzabile e se si volesse per esempio anche in regione sardegna in un account ufficiale pubblicare automaticamente dare notizie automaticamente su un canale twitter ufficiale di un nuovo dataset pubblicato sul portale il feed rss è già pubblicato non è da accendere o spegnere c'è basta conoscere l'indirizzo standard che si can utilizza per per i feed un consiglio non richiesto che vi sento di darvi è date in evidenza di questo urlo perché non lo considerate una cosa per tecni se ci fate caso nella gran parte dei giornali online faccio l'esempio di ansa per fare un esempio celebre c'è il classico simbolino nel feed rss perché ripeto a trasformare quell'iconcina di cui non si ha idea dei contenuti non si legge bene il contenuto a un avviso automatico un sms un tweet potete anche non sapere cos'è un file xml un file rss ma trasformarlo in un servizio che vi torna indietro è particolarmente particolarmente semplice quindi il riuso come conseguenza è quando chi pubblica quei dati fa un bel mestiere fa un bel mestiere anche nel lo racconta cioè non solo pubblica quel dato ma ne dà evidenze ed è una conseguenza cioè chi fa bene produce bene mi sento da baci perugina però secondo me non non saprei dirla diversamente alla volta il riuso è una è una necessità se il link non funziona è perché l'ho sbagliato ora poi ve lo vi do quello corretto a volte il riuso è una necessità cioè alle volte il il civic hacker fa riuso in attività civiche come quelle dell'emergenza o come altre perché non c'è nulla non c'è non c'è una gran qualità non c'è una gran materia prima non c'è quella farina per fare quella torta che tu vorresti fare e allora devi andarti quasi a prendere il grano e macinarlo tu il grano ci deve essere però alle volte è una necessità cioè sei costretto a fare il riuso faccio un esempio che mi tocca mi tocca per mille mille ragioni mi tocca per ragioni territoriali personali è un progetto che è diventato tra virgolette conosciuto in chi si occupa di queste cose senza avere idea che questo sarebbe sarebbe avvenuto perché è un po' nato per caso quello che vedete è il sito dell'agenzia nazionale dei beni confiscati questo screenshot non è uno screenshot di un sito vecchio di due anni fa è uno screenshot che è tuttora di una sezione del sito tuttora attiva noterete statistiche d'aggiornamento riallineamento in corso con i dati del ministro della giustizia non è un sito che oggi funziona così male però questa finestra è probabilmente una finestra di una pagina abbandonata alle volte in alcuni siti è così per fortuna poi i dati li hanno pubblicati diversamente lo dirò dopo vengo invitato come professionista quindi con una consulenza ad andare in Campania a creare un modello uno schema per fare monitoraggio civico sui beni confiscati vengo invitato come tecnico io non avevo conoscenze di dominio non ero non conoscevo la legge sui beni confiscati non avevo in famiglia o tra gli amici nonostante viva nella città con più beni confiscati in Italia anzi nel mondo probabilmente non avevo esperienze di questo tipo vengo invitato come tecnico andiamo a Ottaviano un comune della della Campania e giriamo per luoghi incredibili entriamo in un in un castello mediceo castello di Ottaviano che guarda caso in maniera molto come dire improbabile era diventato a pochi milioni di lire una proprietà della famiglia Cutolo è un castello incredibile era un castello in cui si dice venissero anche in visita alcuni ministri degli interni di quegli anni non faccio nomi perché non ricordo con certezza né il nome né vorrei dire uno sproposito però diciamo la notizia è circostanziata cioè si parla di alcuni ministri di quegli anni che andavano in visita e iniziamo a fare un monitoraggio civico lì quel bene viene assegnato al al WWF e della no viene affidato all'ente parco della regione l'ente parco del vestudio della regione Campania e iniziamo a sbattere contro alcuni problemi cerchiamo dati non li troviamo dobbiamo compilare delle delle tabelline non sappiamo dove prendere queste queste informazioni andiamo sul sito dell'agenzia e troviamo migliaia di pagine web come queste cioè non troviamo un csv un json un un xml da scaricare per poi eventualmente criticare riutilizzare arricchire incrociare con dati istat no troviamo se ci fate caso siamo sicile provincia di palermo comuni di palermo siamo su uno dei comuni italiani siamo sul più ricco di di dati purtroppo e ci sono in basso si legge pagina 1 di 35 quindi 35 pagina html in cui siamo costretti a fare l'hacker perché sono pagina html avrete sbattuto anche voi nel fare copia e incolla di una tabella html in un foglio elettronico per fare un esempio le celle unite la formattazione la scomposizione strana in multicella la formattazione delle date delle virgole il delirio non si poteva fare e poi tenete conto per ogni comune devo fare centinaia in alcuni casi di copia e incolla è una follia allora lì tocca fare metterci mestiere uno sviluppatore fa quello che si chiama lo scrapping il raccogliere in maniera automatica tramite del codice dei dati e siamo stati quindi costretti a raccogliere circa 10.000 record di dati sparse in centinaia in centinaia di di pagine quella è stata un'occasione fantastica perché ha costretto anche noi a imparare delle cose ci ha costretto a fare un riuso di dati che non erano pronti in maniera diretta però c'erano quando dicevo il grano da trasformare in farina c'era perché altrimenti non avevamo potuto fare nemmeno questo in quel progetto abbiamo fatto quello che si fa spesso in questo contesto non tutti i punti che vedete in scaletta non sempre in quest'ordine quindi la raccolta dati in maniera automatica la pulizia perché questo è un altro tema abbiamo trovato di tutto abbiamo trovato categorie di dati una volta c'era la categoria comuni una volta comune una volta c'era uno spazio un doppio spazio siccome i computer sono cretini queste categorizzazioni fatte male consentivano non ci consentivano di fare bene dei conteggi di fare dei raggruppamenti e non ci consentivano di fare dei join dei collegamenti con altri dati perché se il codice Istat è scritto con lo zero iniziale a sei cifre diciamo se è scritto soltanto a cinque cifre io poi non riesco a fare automaticamente il join con dei dati economici mettere in correlazione i dati sui beni confiscati con dei dati di natura socio-economico è come dire un passaggio ovvio scontato e quindi scraping pulizia arricchimento quindi che ne so associare i codici Istat a tutti i comuni nel sito da cui siamo partiti non c'erano i codici Istat e pensate al problema delle accentate in Sicilia c'è un famoso comune turistico che si chiama Cefalù alle volte c'è la U accentata alle volte c'è U apostrofo questo è un altro delirio i computer sono cretini se ci metto il codice Istat un codice numerico standard riconosciuto diciamo da da tutta Italia è molto facile quindi arricchiamo aggiungendo un'informazione a quel punto condividiamo quei dati dobbiamo documentare abbiamo descritto l'operazione che abbiamo fatto abbiamo descritto i dataset un po' come fate voi nei vostri portali regionali abbiamo fatto poi il raggruppamento e analisi quindi abbiamo tirato fuori delle statistiche che hanno consentito di vedere cose che è più difficile vedere quando ascoltate il report su beni confiscati ormai da qualche tempo si mostra come ovviamente la mafia fa affari moltissimo ormai nel nord Italia e non è un caso che in Lazio e in Lombardia ci siano ormai numerosissimi beni confiscati perché sono luoghi in cui c'è tantissimo business e purtroppo la mafia le mafie sono lì dove c'è il business quel lavoro lì è stato bellissimo perché abbiamo trasformato in farina per giornalisti dei dati che prima non esistenono quando vi dicevo la definizione di civic hacker essenzialmente è qualcuno che deve provare a creare in maniera creativa qualcosa che prima non c'era non ci riusciamo quasi mai nel 90% dei casi non arriviamo a fare un gran bel lavoro in quel 10% c'è ciò che ci dà luce e voglia di rifarlo tenete conto non per spararmi pose che quell'inchiesta nel 2015 è diventata copertina dell'espresso online e di una ventina di giornali collegati al gruppo l'espresso che nello stesso giorno pubblicò un'inchiesta simile divisa per ragione nazionale su tutto il territorio a farla siamo stati un geomatico un avvocato un giornalista un esperto di giurisprudenza sui beni confiscati è stata una crescita per tutti quindi questo ve lo dico perché la solitudine del dipendente della pubblica amministrazione a me è nota io sono considerato un rompiscato io sono uno di quelli che nella mia regione invia l'email al responsabile open data gli fa le pulci sempre io spero credo mettendoci alcuni elementi che devono essere di base l'educazione l'informazione le specifiche i riferimenti quindi io ti devo rompere le scatole ma devo arrivare dritto bene al punto il mio interlocutore molto spesso è evidentemente una persona sola nel senso che nella pubblica amministrazione ci sono diversi problemi di business di personale di rete di uffici quell'episodio questa piccola che non ho detto come si chiama questo progetto si chiama confiscati bene questo questo progetto è stata una crescita per noi ripeto io sono uno che fa mappette tendenzialmente ho imparato mi sono anche commosso perché quando ho fatto poi il monitoraggio civico sui beni confiscati incontrare qualcuno a cui hanno ammazzato un amico per strada vent'anni prima non è una cosa particolarmente semplice da ascoltare ieri c'è stata una bellissima puntata di presa diretta su quello che avviene in Calabria quindi per me sono una crescita perché non appunto il tecnico per fortuna non è soltanto uno che scrive codice per Libera che ha collaborato con noi è stata una crescita perché Libera ma da tutte le associazioni che si occupano di questo delle volte per motivi culturali perché nessuno gliel'ha spiegato perché non si cresce anche in quei contesti da questo punto di vista non hanno ben chiaro che i dati anche se sono freddi sono un arricchimento anche come strumento per fare un certo tipo di lotta di arrivare a certi risultati quell'esperienza ha reso Libera più consapevole Libera delle altre associazioni del valore che può avere il dato come strumento e la pubblica amministrazione ha dato sostanza alla forma ho scritto cioè ci è capitato proprio con l'Agenzia Nazionale dei beni sui beni confiscati che è una grandissima agenzia fa cose delicatissime in cui c'entra la sicurezza è molto complicato fare un mestiere che fa l'agenzia loro per i fattacci loro ma grazie moltissimo anche al nostro stimolo hanno dopo quella parte di brutto sito che vi ho fatto vedere pubblicato dati in una modalità diversa e hanno creato il sito openregio.it ma al di là dell'esempio di altissimo livello mini esempio credo che sia qui vado un attimo a memoria il comune di Alcamo un piccolo comune della provincia di Trapani ma è un comune in cui la mafia è una zona in cui la mafia è fortissima ancora voi pensate che il celeberrimo purtroppo Matteo Massina Denaro è di quelle aree lì grazie a questo tipo di attività da Civic Hacker grazie a questo tipo di progetti da che pubblicava il pdf con la scansione dell'elenco dei beni punto inutilizzabile non si capiva dove fossero questi beni in maniera autonoma ha deciso di fare la mappetta con i pallini le informazioni e la tabella da scaricare sui beni che è pubblica quindi trasformare la sostanza in forma quindi andare un po' oltre l'obbligo di legge perché sugli open data ancora secondo me sui dati aperti dati pubblici mi piace dire c'è ancora un limite tra una formalità che diventa sostanza e una formalità che rimane soltanto forma se la forma diventa sostanza è il goal è l'obiettivo mini slide non perché ce l'ho con Arpa Calabria ma per dirvi quindi abbiamo detto il riuso come necessità quindi il riuso come conseguenza quando tutto va bene il riuso come necessità se io faccio comunicazione sul rischio devo finire come dicevamo in un esempio precedente anche in mezzo alla gente e quindi ovviamente devo avere l'account twitter per esempio la pagina facebook il canale telegram whatsapp quello che voi immaginate in cui dare comunicazione il più presto possibile su un'allerta alcune 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 ARPA alcuni anche dipartimenti di produzione civile e regionale fanno però soltanto questo cioè danno l'avviso sui social poi pubblicano spesso un'immaginetta quella che voi vedete se poi voi andate nel sito cioè essenzialmente la calabria in giallo con i macro poligoni la classificazione è un peccato non provare a fare un piccolo passo avanti perché questa informazione che viene costruita da un computer è un evidente come dire template che stampa l'intestazione la regione i colori quindi c'è tecnologia c'è informatica alle spalle è molto probabile che ci sia un database alle spalle noi si vi chiediamo tenendo conto della solitudine del funzionario pubblico delle problematiche di budget di alle volte fermarvi quando dite ok ma accidenti ma ce l'ho già il database parlo col tecnico se sono io il tecnico vediamo se riesco a esporre soltanto una una vista una query che semplicemente mi ricucina quella farina che io già ho e quindi se oltre all'informazione sui social riesco a produrre in maniera automatica cioè appena faccio invio sul mio database quindi c'è un operatore che riempie quella scheda al click su invio sarebbe fichissimo produrre un json un xml una vista un qualcosa che poi consenta a uno sviluppatore a un'azienda di fare un'app che prenda tutti gli alert esposti in questo modo in Italia e produrre degli avvisi di carattere nazionale ed eventualmente facci anche un business io pago due euro al mese per essere avvisato da quest'app soltanto è il mio interesse soltanto per le allerte meteo rischio la mia regione siciliana produce allo stesso modo questi avvisi sono dei pdf ogni giorno c'è il pdf io ho fatto un piccolo script che fa una follia fa scarica il pdf mi faccio una sorta di OCR riconoscimento testo di questo pdf e produco in automatico i dati non ne ho fatta molto a diffusione perché io non mi posso permettere di fare uno script di allerta che funzioni male o qui c'è un'azienda che se ne occupa o se ne occupa la pubblica amministrazione parliamo di roba seria parliamo di sicurezza quindi è carino fare il tutorial per far vedere cosa si può fare col codice non mi metto a fare un servizio come dire unofficial di avvisi sul sul rischio Houston qualche settimana fa riuso pendata rischio allerta l'uragano Harvey è stata un è stato un disastro sono zone in cui è un rischio noto è un rischio ricorrente è su ho dimenticato di ammettere l'urla su un gran bell'articolo del blog di Open Knowledge Foundation c'è un piccolo articolo che dice meno male che ci sono accidenti i dati aperti su una serie di cose legate al territorio legate all'ambiente in questa città questa frase che ho messo è una citazione ci sembra evidente ma fatevi un giro in tutte le PA dei comuni italiani delle regioni italiane non è sempre realizzato non è vero che i dati di quel tipo che possono essere d'aiuto nel caso dei disastri sono parte di un piano legato alla pubblicazione di dati e a me non piace dire dati aperti in questo caso perché alle volte sembrano quelle cose per fricchettoni tecnologici quelli che usano open data ci fanno quelle mappette mi piace più dire dati pubblici un po' come avere l'acqua in casa un po' come avere l'energia elettrica in casa queste informazioni devono uscire dal rubinetto semplicemente è il minimo è il substrato minimo non ci pago già le tasse secondo me qua non mi voglio come dire rimproverare non ho nessun tipo di anche perché non so quello che fate non ho questo intento vorrei dirvi un po' come la penso e provare a dal mio punto di vista che può essere anche sbagliato a lanciare un sassolino in questa situazione di disastro con diverse problematicità c'erano disponibili subito perché già da tempo era così i dati aperti sul livello delle acque la mia regione pubblica dati sul livello degli invasi sui fiumi ma non sono riutilizzabili sono delle tabellette html in cui ci devo andare io non è non è attivabile nessun tipo di avviso automatico se pubblico i dati aperti con un portale tipo Siken e c'è il puntamento a un a un punto di ingresso alla vista che vi dicevo al database automatico è fatta c'erano i percorsi di evacuazione perché avevano pubblicato come avviene questo abbastanza spesso in Italia tutte le 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 zone di emergenza le strade c'erano già pubblicate tutti i rifugi accelero un po' perché manca manca poco mamma mia vabbè mancano troppe slide mi sono fatto prendere un po' dalla predica mi scuso terremoto centro Italia avviene quello che avviene è un gruppo di persone decide di dare una mano la sera stessa del terremoto crea un sito informativo fa all'inizio una cosa di base visitatolo è molto carino è cresciuto nel tempo decide di raccogliere informazioni e cercare di creare un punto centralizzato informazioni da protezione civile e da giornali cerca un punto centralizzato per lanciare avvisi richieste richieste d'aiuto e grazie a questo sito sono arrivate dalle richieste di un camper a vestiti a roba molto molto terra terra a roba molto più grossa a roba che è servita a fare nascere anche soltanto un'inchiesta grazie ai dati aperti che abbiamo riutilizzato abbiamo subito pubblicato dei dati satellitari pubblicati se non sbaglio da digital globe non ricordo più perché è stata fatta tempo fa una classica bella mappa pubblicata comunque dalla pubblica amministrazione che consentiva di pubblicare il prima e il dopo informazione racconto è molto è molto importante foglie e fiamme sto andando di corsa poi approfondite terremoto centro Italia incendi estate che abbiamo pensato usiamo la giurisprudenza utilizziamo la roba formale per trasformarla in sostanza c'è l'obbligo di pubblicazione delle aree percorso dal fuoco spesso questi documenti non si trovano non c'è non c'è pubblico un archivio centralizzato c'è il FOIA in Italia c'è la richiesta di accesso civico rendiamo semplice fare questa richiesta su questo tema allora abbiamo connesso questo sito Italia a fuoco si chiama l'abbiamo connesso a vado avanti a una bella idea che si chiama FOIA POP per rendere popolare il FOIA cosa fa questo questo sito ed è un caso di riuso di dati FOIA POP consente a chiunque di compilare una richiesta di accesso di FOIA in questo caso io avevo la possibilità di scegliere un comune quindi io volevo chiedere il catastro delle terre bruciate del comune di Cagliari io scrivevo Cagliari riutilizzando i dati presenti nell'IPA nell'indice della pubblica amministrazione veniva autocompilato la parte anagrafica quindi l'ufficio di competenza la via il CAP l'indirizzo email il PEC veniva precompilata la richiesta perché noi sapevamo che richiedevamo secondo una certa norma di legge un certo documento quindi era tutto precompilato con un pezzo di riuso importante della parte dell'indice della pubblica amministrazione e un po' di dati istat l'utente stampava la sua richiesta e poi la inviava e le invia alcune di competenza l'abbiamo lanciata abbastanza in sordina ne abbiamo già ricevuto c'è un centinaio di risposte da comuni italiani risposte alcune molto molto aperte altre un po' più chiuse altre in cui è stato necessario dialogare e quanti ce li ho altri tre minuti quattro minuti questo è un'altra slide da cui tengo cioè se mi devo presentare una cosa che mi piace fare che è presentosamente però su questo ho avuto diversi feedback una cosa che amo fare è condividere una cosa che ho imparato una cosa che so fare perché lo dico a voi la pubblica amministrazione perché secondo me delle volte il riuso si facilita si attiva tantissimo se voi stessi condividete una parte anche di cultura sui dati di riutilizzo interno che fate sui dati perché come avete già visto negli incontri che avete fatto un goal dei dati aperti è quello di riuso nel supporto delle decisioni anche tra uffici che condividono informazioni tra loro verso l'esterno se racconto un po' nei dettagli in maniera anche un po' meno tecnica alcune cose i goal possono essere veramente tanti l'esempio è EFIS EFIS è un sito straordinario legato alle informazioni sui boschi diciamo sui incendiati in Europa è un sito che espone i dati in tantissimi modi molto bene molto documentati in tutta la modalità standard sia un po' per mia mamma sia un po' per me sia per un super tecnico cosa fanno che ho scoperto come dire la Civic Hacker vedevo che in una delle belle mappe online che facevano ho guardato un po' il codice e c'era come dire puzza di API cioè di modalità un po' più spinte un po' più tecniche un po' più intelligenti di pubblicazione di dati e allora ho scritto un'email e io ho chiesto sentite ma non è che pubblicate mi sembra che pubblicate anche i dati in questa modalità e mi rispondono in meno di 24 ore e mi dicono Andrea sì abbiamo delle API in cui puoi fare delle query quindi io potevo chiedere tutti gli incendi nei boschi soltanto più grandi di 10 ettari soltanto in Italia nella provincia di Bari tra il primo marzo 2017 e il primo maggio 2017 quindi andare oltre le modalità classiche e anche importanti fruzioni di questi dati con un passo in più ancora più più smart potrei attivare tanta di quella roba che vi ho detto con i FTT e allora mi hanno risposto e a quel punto io per piacere personale ho scritto un blog post che è stato anche molto letto viene tuttora molto letto in cui illustro un po' per tecnici come accedere a quelle informazioni io ho chiesto ancora non l'hanno fatto datene voi informazione in un angolino in basso a destra non dico in alto a sinistra dove aveva l'attenzione di questa modalità d'accesso e quindi tutte le volte che in pubblica amministrazione se volete parlare con i maledetti civic hacker date voce anche a queste modalità l'ultima frase da bacio perugina ne ho dette diverse in questi in questi minuti incontrarsi virtualmente non per email per chat con incontri periodici una cosa molto bella che fa il comune di Palermo lo prevedono le linee guida sui open data degli incostri degli incontri bimestrali aperti alla pubblica cittadinanza mi danno avviso nel portale ufficiale nelle news generiche dicono un orario dicono una data e poi chi vuole può andare a presenziare non si è mai più di di 5 10 cittadini però è molto bello da lì nascono cose nella frase che ho inserito sotto fortunata la PA che incontra rompiscatole perché non è poi così comune in realtà nella solitudine nella pubblica amministrazione c'è anche questo non è così semplice io un po' mi incavolo con alcuni miei colleghi dico parlate scrivete telefonate la pubblica amministrazione perché vi sorprenderà mentre purtroppo passa spesso il fatto che è difficile è fortunati noi che parliamo con il freddo